Uno splendido doppio petto in franella blu. Questa è una franellina bellissima perché è molto rasata, molto veramente bella, quasi è molto setosa al tatto, quindi non solo quelle franelle cardate, pesanti, difficili da utilizzare. È una franella facilmente portabile anche per climi abbastanza miti. Questo è un abito che a Roma si porta benissimo ed è realizzato in un bel doppio petto da notare che bello che è il river, non troppo alto in questo caso rispetto alla spalla. È un river relativamente basso, un doppio petto, bello, piacevole, che si sviluppa per orizzontale piuttosto che in verticale, molto fine. Tasca a filetto e la nostra ormai sempre più frequente spalla mappina, molto bella, cucita con le tipiche piegoline. Abbiamo abbinato questa cravatta splendida prugna proprio perché la fodera dentro in questo caso è anch'esso di un core che un po' la richiama, è il nostro tipico viola, un tessuto veramente straordinario che abbiamo scelto di abbinare con questo bel blu e secondo me l'effetto lo rende un abito di un'importanza vera, piacevolissimo allo sguardo e sicuramente che farà fare una gran figura a chi ha scelto e a chi lo indosserà. Spero che l'abito, che il video vi sono piaciuti, ci vediamo da Dazzardo.